Ok, rifiniture fatte. Ripulito da bravo parrucchiere, la nuca si vede, togli la mano anche magari, ecco, così, smuovi un po', vanno abbastanza a posto da soli, naturalmente con una piega adeguata rendono di più, però su un capello liscio, simile al capello di Sabrina, è un taglio abbastanza facile da tenere. E comunque, come abbiamo detto, ha la caratteristica di essere un taglio molto normale davanti e particolare dietro. Quindi, adatto a una fascia d'età che va dai 15 anni ai 60 anni anche. Va bene, visto che te non sei ancora a 60 anni, ci stai ancora dentro però del po', eh? Eh. Come è stato? Sì, no, no. Ora? Sì, sì, sì. Erano troppo lunghi qua, cioè poi non ero più abituata al capello così lungo, cioè per me già era lungo, colpa tua. Ma anche adesso è lungo davanti, confronto al primo che avevamo fatto, simile a questo con la nuca rasata. Sì, sì, sì. Ma molto più corto, a metà viso, per arrivare a metà guancia. Sì. Fai vedere ancora una volta dietro. Ok. Va bene. Passiamo ai saluti di Rito. Ragazzi, ci si vede alla prossima e spero che sia a breve tempo, per non aspettare altri mesi. Se ci sono modelle, noi ci siamo. Ok? Bye bye. Ciao.